Musica Noi seguiamo una serie di criteri Perché questo criterio? Sembra, può sembrare ovvio quello della qualità e non della quantità degli ospiti nel senso che ci sono stati tanti anni fa o in alcuni altri festival in cui si pretevige, si pensa che avere 30 ospiti o 50 sia meglio anziché avere solamente 10 in realtà vedremo che non è così perché innanzitutto se tu hai 50 ospiti non è detto che siano tutti e 50 ospiti che ti tengono uno standard alto se hai invito i 50 ospiti devi per tutti e 50 mettere in atto una macchina organizzativa che sia adeguata Musica 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 Musica